Per panchetti esclusivi, cene romantiche o per un party a bordo di scena. All'interno del complesso vi aspetta anche il quino tetto per un soggiorno davvero... E' un'altra parte che mi piaceva e mi piaceva il momento che la sospita è la scena. E' un'altra parte che mi piaceva un po' di scena. E' un'altra parte che mi piaceva, e' un'altra parte che mi piaceva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.